Salve a tutti e bentornati in questo nuovo tutorial ragazzi in questo nuovo video ti spiego come attivare e disattivare il microfono delle cuffie quindi in questo caso tu vai su il simbolo dell'audio qua sopra, tasto destro sopra, impostazioni audio scende fino a giù fino a trovare altre impostazioni audio, registrazione se non sai qual è il tuo microfono delle cuffie tu basta che fai un test quindi in questo caso se tu hai le tue cuffie collegate al pc e prendi così io ho le cuffie della Razer quindi a me la stecca del microfono si tira dal patiglione della cuffia quindi la tiro e la rimetto dentro quindi che faccio la prendo e comincio a parlare all'interno del microfono come potete vedere la tacchetta si sta alzando quindi questo è il microfono delle mie cuffie e questo è il microfono in cui sto facendo il video quindi tasto destro sopra e qui puoi fare disabilità il microfono come puoi vedere qui si è tolto così il microfono delle cuffie e puoi abilitarlo di nuovo ed esce di nuovo qua ok? nel prossimo tutorial farò il video su come configurare al meglio il microfono delle proprie cuffie quindi in questo caso se questo video ti è stato utilissimo iscriviti, lascia like e noi ragazzi ci vediamo ad un prossimo video ciao